Amici di investire in borsa a caccia di dividendi, clamoroso tracollo per Walmart che perde oltre 10 punti percentuali e scende una quotazione di circa 148 dollari visti nella giornata di venerdì scorso fino ai 132 dollari della giornata appena conclusa. Cosa è successo? Che cosa sta facendo crollare questo colosso della grande distribuzione? Tra l'altro è rarissimo vedere Walmart scendere in una maniera così decisa. Guardiamo ad esempio nel grafico a lungo termine qual è stata la sua crescita veramente esponenziale. Lo possiamo vedere in questo grafico. Una meriade di dividendi distribuiti nel corso degli anni dividend yield al prezzo attuale bassino superora l'1,5% ma ancora bassino. Per arrivare al 2% lordo la strada è ancora lunga. Cosa è successo? Stavamo dicendo è clamoroso. Taglio delle stime sugli utili. La motivazione è l'alta inflazione. Infatti il grande distributore statunitensi ha mancato le stime sugli utili trimestrali e ha avvertito che l'inflazione peserà sui profitti nel resto dell'anno. Walmart ha anche reso noto che gli utili per azione rivisti sono stati di 1,30 dollari nel trimestre appena terminato al di sotto dell'1,48 previsti. I ricavi invece leggermente più alti di quanto si prevedeva. Questa appunto la tendenza, quella di margini inferiori proprio a causa dell'inflazione. Voi, miei carissimi amici di Investire in Borsa Caccia di Divendi, cosa ne pensate? So che molti di voi hanno in portafoglio Walmart. Io purtroppo non ce l'ho e dico purtroppo perché nonostante il calo che stiamo vedendo attualmente e negli anni passati ha veramente guadagnato tantissimo Walmart. Dicevo, voi cosa ne pensate? Può essere un'occasione d'acquisto? Oppure quest'alta inflazione potrebbe pesare ancora lungo sui margini di Walmart e far perdere ulteriormente l'azione? Ditemelo nei commenti e non dimenticate di sostenere il canale con un like e con l'iscrizione se siete nuovi del canale Investire in Borsa Caccia di Divendi.